La scelta shock nella prossima puntata A Uomini e Donne Trono Classico , in queste ultime settimane si è venuto a creare un vero e proprio trinagolo sentimentale che ha come protagonisti Sara, Lorenzo e Niloufar. I tre sono al centro di polemiche continue e colpi di scena clamorosi che finiscono per rendere la situazione per le due troniste in carica ancora più difficile del previsto. Il motivo? Sara e Niloufar si sentono entrambe attratte da Lorenzo e in queste ultime puntate abbiamo visto che il corteggiatore si è quasi trasformato nel tronista della situazione e ormai è arrivato a dettare legge in trasmissione. La scelta shock a Uedi, ecco cosa vedremo. Nel dettaglio le anticipazioni su Uedi rivelano che nel corso della prossima puntata del Trono Classico che vedremo in onda la prossima settimana in televisione, ci sarà lennesimo colpo di scena finale. Chi ha seguito le puntate del Trono Giovani trasmesse fino ad oggi sa benissimo che Lorenzo dopo aver scelto di corteggiare Niloufar e di chiudere le frequentazioni con Sara ha avuto un ripensamento. Nel momento in cui la bella tronista ha chiesto a Lorenzo di rivedersi per una nuova esterna e di provare a fare un po' di chiarezza su quanto fosse successo in queste ultime giornate, Lorenzo non si è tirato indietro ed ha consentito alla richiesta di Sara, suscitando però la reazione negativa di Niloufar. Nel corso della chiacchierata tra Sara e Lorenzo, infatti, abbiamo visto che tra i due ci sono stati dei momenti di grande emozione, dove la tronista non ha trattenuto le lacrime ma anche Lorenzo sembrava tuttaltro che poco interessato alla bella Sara, nonostante avesse annunciato di voler corteggiatore solo Niloufar. Cosa succederà tra Sara Lorenzo e Niloufar nella prossima puntata di Ued. Cosa succederà a questo punto nella prossima puntata di Cancelletto Uomini e Donne? Le anticipazioni ufficiali rivelano che Niloufar dopo aver vuisto quest'esterna tra Lorenzo e Sara ha scelto di chiudere definitivamente la sua frequentazione con il corteggiatore e di andare avanti. Tra i due, però, non mancheranno le polemiche, video, Lorenzo accuserà la tronista di averlo messo in disparte e di averlo trascurato nonostante la sua dichiarazione d'amore, ma Niloufar non ci sta e lo accusa di essere soltanto una persona falsa. Il dubbio degli spettatori e degli opinionisti di Ued, in questo momento, è quello che Lorenzo possa aver fatto tutto questo solo per stare al centro della situazione e continuare così a catalizzare l'attenzione del pubblico. Cancelletto Uomini e Donne oggi Cancelletto Niloufar a dati. Cancelletto